Ciao! In questa edizione del Poet Wine Festival, oltre che darvi la possibilità di degustare tantissimi vini sardi, vi daremo la possibilità di dare il vostro giudizio per il miglior rosso, il miglior bianco e il miglior packaging. Metti alla prova il design della tua bottiglia. Al miglior packaging KLS mette a disposizione la sua esperienza per la realizzazione e la creazione della tua etichetta. Con Winepix potrai votare la tua bottiglia preferita. Scarica l'app, è gratuita! Grazie! Grazie! Grazie!